Buongiorno, questa è una denunzia, voglio rimanere anonimo per ovvie questioni di sicurezza. All'Arap, con la scusa di studiare le aurore boreali e grazie a questi potenti trasmettitori, si sfrutta il fatto che la Terra cava per provocare gli tsunami, ma nessuno pensa che dentro la Terra cava ci abitano i rettigliani. Difendiamo i rettigliani dalla potenza di questi trasmettitori e dall'Arap, fermiamo la strage.